Buongiorno io dell'Arsenal, abbiamo qui il Dio Dica allora, questa partita da cuore purtroppo è infortuna per lei Purtroppo è infortuna, vedere e provare perchè Purtroppo... un supertamento Masca mai l'oro Mi ha consentito a finire a fare la banchiera Tipo allenatore, allenatore giocatore Vabbè, il tuo supporto, il tuo supporto per questa partita E' stata fondamentale Prova dai per play! Nel per play! Ehi! Questo è ecco... Guarda, l'ho fatto perchè mi hanno dato 2.000 euro Allora, vediamo qui abbiamo... Abbiamo il numero 10 dell'Arsenal L'abbiamo visto inizialmente un po' di tubanti Aveva paura Eh si, ero molto grandi e... Non riusciva ad entrare nel five Emozionato, questo giovane Dalendo Il prossimo anno dicono voci importanti Ah si Eh si è forte Il tuo fratello quando lo porti che lo lascia qui con noi ullah Guarda ragazzi questa cosa nel ardente Benedży Vediamo se c'è qualcuno disponibile Profesano Sì insomma per isso Sapevo della mia forma fisica, non avevo piato, non avevo gambe, non avevo niente. Sono contento che è andata così, pensavamo di vincere. Sicuramente. E vincere, via! Grazie! Basta! Guarda, è giudicato la parte di Ferrandi, ci lasciamo ai pochi ai daer. Sì. Seguiamo. Stiamo entrando a spedere il Real Madrid, vediamo se c'è qualcuno. Ho permesso, buonasera. Svantaggi, delusione per lui. Partita un pochino demotivata, perché hai sbagliato quelle prime due falle e poi sei calato vistosamente. Sì, diciamo che non ho rotto il gioco da subito, quindi non sono riuscito a rispondere. Scusa, ma fussi veramente tra l'altro? Scusa, non sono forse. Dopo, niente, non abbiamo più giocata e abbiamo pareggiato. Gol sbagliati a Iosa, top, dribbling errati, botte, tante botte per te, senza di seri, giustamente hanno... L'Atena ha cercato di fermarti tutti, ma l'Atena ci è riuscito. Sì, diciamo, per loro sono una brutta squadra, è stata molto dura. E... niente, sicuramente potevamo fare meglio, però è andato così, racconteniamo anche l'Atena. Va bene, ti ringraziamo, adesso cerchiamo qualcuno, ecco, cerchiamo più grelli. Noi grelli, allora, questa partita è un pareggio per te e poi... Volevo salutare tutti quelli a casa prima. Allora, pareggio. È poco. Poi pareggio, poco. Però mi aspetto Panzolini per scocciare i genitori. A me mi interessa solo quello. Mi dispiace per questo Panzolini, mi dispiace tanto per questo Panzolini, forse se ero in lui non verrei alla prossima partita. Va bene, ma partenza subito con gol, Giocecchini, poi... Susegnati io. Susegnati io, naturalmente. Vabbè, quello grancò e ammunizioni, abbiamo visto nervosa. Ah, grancò e ammunizioni, però era un po' scuro. Sì, ormai noterà. Ci sono trattemuto anche. Diciamo, in redazione abbiamo notato che tutti quelli ammunizioni fanno parte della UISP. Perché sono lei? Tutto unire. Lei, Caramella, Roberto Lanari. Succede, siamo tutti così. Purtroppo il calcio professionistico non fa per noi. Siamo per le botte. Benissimo, dopo questa dichiarazione... Sperchiamo... Sperchiamo...